Ciao 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 a tutti del video! Il torneo di Istanbul Guys è alle porte! In 24 vi siete iscritti, quindi ci sono io, Ricky, Notale, Carlo, Derix, Ahmed, Moni, Elcobra, Youssef, Gamevitto, Diego, Giuse, Aski, Christian, Akram, QR Areto, Angelo, TrovaCas, JD, Danny, Tom, PulcinoGG, Dinosauro e Attacri. Io ho preparato i biglietti, tutti di uguale dimensione e stasera alle 19.20 sul mio canale ci sarà la live dei sorteggi perché sarete sorteggiati e sarete divisi in gruppi. Comunque ve lo spieghiamo stasera. Ciao ciao ciao!